Coroncina alla Santa Famiglia di Nazareth 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 Sacra Famiglia e mio Angelo Custode pregate per noi Dolce Cuore di Gesù sii il nostro amore Dolce Cuore di Maria sii la nostra salvezza Dolce Cuore di San Giuseppe sii il custode della nostra famiglia Gesù Maria e Giuseppe vi amo salvate la nostra famiglia Gesù Maria e Giuseppe vi amo salvate la nostra famiglia Gesù Maria e Giuseppe vi amo salvate la nostra famiglia Gesù Maria e Giuseppe vi amo salvate la nostra famiglia Sacri Cuore di Gesù Giuseppe e Maria tenete la nostra famiglia unita in santa armonia Gesù Maria e Giuseppe benediteci E concedeteci la grazia di amare la Santa Chiesa sopra ogni altra cosa terrena E di dimostrarle il nostro amore sempre e con la prova dei fatti Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo Come era in principio e ora è sempre nei secoli dei secoli Amen Gesù Maria e Giuseppe benediteci e concedeteci la grazia di professare apertamente Con coraggio e senza umani rispetti la fede che ricevemmo in dono col Santo Battesimo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori ad essere l'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo Come era in principio e ora è sempre nei secoli dei secoli Amen Gesù Maria e Giuseppe benediteci e concedeteci la grazia di concorrere alla difesa e all'incremento della fede Per la parte che ci può aspettare con la parola, con le opere e col sacrificio della vita Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori ad essere l'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo Come era in principio e ora è sempre nei secoli dei secoli Amen Gesù Maria Giuseppe benediteci e concedeteci la grazia di amarci tutti scambievolmente E metteteci in perfetta concordia di pensiero, di volontà e di azione sotto la guida e la dipendenza dei nostri sacri pastori Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era in principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli Amen Gesù, Maria e Giuseppe, benediteci e concedeteci la grazia di conformare pienamente la nostra vita Ai procetti della legge di Dio e della Chiesa Per vivere sempre nella carità di cui essi sono compendio Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era in principio e ora e sempre Nei secoli dei secoli Supplica per implorare la benedizione della Sacra Famiglia O ammirabile Santa Famiglia di Nazareth Famiglia Divina e tutta Santa Noi poveri peccatori Veniamo la vostra amabile presenza Per implorare la celeste benedizione Benediteci, vi supplichiamo Benediteci col vostro santo amore Benediteci con le vostre santi virtù Benediteci con la grazia dei vostri cuori Benediteci con i privilegi della vostra altissima dignità Benedite la nostra volontà di amarvi e di imitarvi Benediteci con i nostri corpi, benedite i nostri corpi deboli, le nostre anime, i nostri affetti, i nostri desideri, tutto il bene che faremo e ogni opere che torni alla gloria di Dio e a vostra gloria Sacra Famiglia, benedite la terra con tutti gli alberi e le foreste benedite i mari e i fiumi e ogni essere che vive sulla terra benedite, vi supplichiamo, i nostri cari e coloro che ci fanno del male benedite e riempite di ogni grazia tutti i nostri fratelli che ci procurano ogni sorta di sofferenza e soprattutto coloro che ci perseguitano benediteci affinché possiamo rinunciare a noi stessi liberandoci dall'amor proprio benediteci affinché seguiamo l'unica via della volontà divina per essere beati benedite le famiglie nelle quali regna l'odio e la violenza, l'impurità e tutte quelle forme di peccato che non alimentano la pace e la serenità della famiglia benedite la chiesa e il papa, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, lo stato e coloro che ci governano ci fermiamo, o amabile trinità della terra, perché voi ora concediate al mondo la sospirata benedizione Gesù, Pargolo Divino, Maria, Madre Immacolata, Giuseppe, Padre Purissimo Sacra Famiglia, Trinità della Terra, nel vostro nome e nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di noi, su tutta la terra e su tutte le famiglie del mondo Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen